Musica Se Putin trionfasse in Ucraina, la prossima mossa delle forze russe potrebbe benissimo essere un attacco diretto contro un alleato della Nato e voi tutti sapete benissimo che la prima cosa che mi viene in mente sarebbe invocare l'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico che dichiara che è un attacco a uno, è un attacco a tutti. Qualunque cosa si dica stiamo ottenendo il sostegno di cui abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno per continuare a proteggere le vite dagli attacchi russi. Ciò che sta accadendo nei campus universitari americani è orribile. Gruppi antisemiti hanno preso il controllo delle principali università, chiedono l'annientamento di Israele. Ciò ricorda ciò che accadde nelle università tedesche negli anni 30, è inconcepibile. Abbiamo ripetutamente offerto come condizione per la pace la creazione di uno Stato palestinese pienamente sovrano in Cisgiordania e Gaza e il ritorno dei rifugiati in conformità con le risoluzioni internazionali. Vivremo in uno Stato e stabiliremo e concorderemo in un cessato il fuoco e una tregua di 5 anni per vivere in sicurezza. La democrazia non è ancora stata completata in tutta l'Europa e oggi abbiamo sentito il desiderio di nuovi paesi che vogliono entrare, il desiderio a cui noi dobbiamo dare una risposta positiva. Chi pensava di imporre la democrazia ha compiuto solo dei disastri e credo che oggi nel celebrare il passato noi dobbiamo prendere tutti assieme un impegno per il futuro. Il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani, non è la festa di un partito. Io ho citato anche in un'intervista oggi il discorso di Silvio Berlusconi a Donna. È la festa della riconquistata libertà. La libertà di un popolo non è di un partito. Guai se pensassimo che fosse proprietà di un partito, anche perché gli italiani che si sono battuti per la libertà erano di diverso orientamento politico. Non c'erano monarchici, liberali, socialisti, comunisti, cattolici, azionisti. La libertà non è un po' guai se noi pensiamo che la libertà sia prerogativa di uno. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. Buona festa della liberazione per il 25 aprile, come sempre, manifestazioni e cortei in molte parti, in molte città italiane. Intanto c'è un'allerta da parte del Viminale per previste tensioni o proteste violente. Queste immagini che vi mostriamo arrivano in diretta da Roma, dove stamattina a Porta San Paolo ci sono state tensioni, fischi e insulti tra la brigata ebraica e i movimenti manifestanti pro palestinesi. Sono stati lanciati anche sassi contro i giornalisti che erano lì. Adesso vediamo queste immagini. La situazione, diciamo, sembra meno tesa. Vedremo, seguiremo ovviamente nel corso della nostra trasmissione l'andamento di quello che sta succedendo a Roma. Poi ci sono appunto le due più grandi manifestazioni a Roma, ma anche a Milano. A Milano è atteso anche Antonio Scurati, lo scrittore, come sapete, al centro in questi giorni di molte polemiche, mentre a Roma ha annunciato la propria presenza Roberto Salis, il papà di Ilaria Salis, detenuta da oltre un anno a Budapest, candidata per l'alleanza verde e sinistra all'europea, cosa che ha scatenato la rabbia del governo ungherese. Poi ci sono e si incrociano con questa giornata, diciamo, le questioni internazionali, le guerre. Biden ieri ha firmato il nuovo pacchetto di aiuti consistente da 95 miliardi per l'Ucraina, per Israele e per Taiwan. Avete sentito le parole del Presidente americano. C'è stato l'appello di Papa Francesco, ha detto meglio una pace negoziata che guerre senza fine. Papa che riceve oggi il Presidente ungherese e Israele, insomma, starebbe preparando la più volta annunciata offensiva operazione a RAFA e stanno cominciando le operazioni di evacuazione di oltre un milione di palestinesi, appunto, da questa città della striscia di Gaza. Insomma, abbiamo molto di cui parlare. Mi presento i nostri ospiti, bentornato a Giordano Bunoguerri, storico e Presidente della Fondazione Vittoriale. Buongiorno. Ciao Giordano, bentornato. Saluto Carlo Panella, giornalista e scrittore. Ciao Carlo. Saluto Pier Giorgio Di Freddi, matematico e candidato anche, credo, nella lista di Santoro Pace, Terra e Dignità. Se raggiungiamo le firme. Se raggiungerete le firme per poter partecipare alle elezioni europee. Saluto Anna Maria Catano, giornalista e scrittrice. Buongiorno, bentrovati. Bentrovata. Collegata con noi c'è Camilla Conti della Verità. Ciao Camilla. Buongiorno a voi e buon 25 aprile a tutti. Grazie a te. Io vorrei chiedere a Giordano Bunoguerri, la domanda te la metterei in questo modo. Come racconteresti oggi dei ragazzi e dei giovani il 25 aprile? Il giorno 25 aprile fu la data in cui le grandi città Milano vennero liberate dai nazi fascisti. Quindi la festa della liberazione simbolica che poi è totalmente avvenuta pochi giorni dopo. Secondo me l'equivoco, i problemi che affrontiamo ancora oggi viene da quella decisione di festeggiare il 25 aprile piuttosto che la fine della guerra. È avvenuta in maggio. Se festeggiassimo la fine della guerra festeggeremo sia la sconfitta del nazifascismo, sia la liberazione dell'Italia, sia appunto la fine di quella cosa gravissima provocata dal nazifascismo, la seconda guerra mondiale. Si è voluto celebrare la liberazione per motivi politici dei partiti che avevano vinto e battuto il fascismo. Però accade, come una frase molto limpida spiega, che tutti i democratici sono antifascisti, ma non tutti gli antifascisti sono democratici. Ecco, quindi, secondo me sarebbe sufficiente dichiararsi democratici senza pretendere da nessuno che dica io sono antifascista, io l'ho detto io sono antifascista, non ho nessun problema a dirlo, ma prima ancora sono un democratico. La destra al potere attualmente non può rinnegare il proprio passato. L'ha fatto già negli anni 50 Almirante, dicendo né rinnegare né restaurare. Quindi non si torna indietro, ma non si rinnega. È come pretendere che qualcuno dica della propria madre, è una poco di buono, uso questo eufemismo per non dire altra parola. Però mi ha nutrito, mi voleva bene, teneva bene la casa, eccetera. È un eccesso di richiesta. Io credo che passeranno gli anni, Meloni o chi per lei, i suoi successori, finalmente diranno sì, sono antifascista, ma la storia richiede tempi lunghi. Tempi lunghi. Ma perché sorridevo di freddi? Perché poi il problema del 25 aprile si ripropone ogni volta, si ripropone sempre, ma ogni volta che soprattutto la destra è al governo. Ma no, sorridevo perché personalmente il 25 aprile lo considero una ritualità e io sono un po' allergico a tutte le ritualità, quindi non mi ci trovo molto a mio agio, ma solo per quel motivo. Anche perché se io fossi un carcerato, per esempio, e mi trasferiscono da una prigione all'altra, non direi che sono stato liberato. Ora, a noi non piace pensare che in realtà la liberazione, che appunto noi festeggiamo il 25 aprile, ma la resa ufficiale fu firmata il 29 di aprile, ma fu firmata di fronte al generale Alexander, con la presenza del rappresentante dell'Unione Sovietica. Siamo passati, forse è un po' forte da dire, ma siamo passati da un gioco all'altro. Noi siamo stati occupati dagli americani. Gli americani sono rimasti in Italia per anni. Il trattato di pace è stato firmato nel 1947. Oggi in Italia ci sono 15.000 soldati americani, in Germania ce ne sono 35.000 e in Giappone ce ne sono 55.000, in ordine di preoccupazione. Gli americani hanno occupato l'Europa. Noi siamo passati da un'alleanza a un'altra e continuiamo adesso. Siamo membri della Nato, per esempio. Non abbiamo voce in capitolo. La nostra Costituzione ci impedisce, l'articolo 70, di fare referendum, per esempio, abrogativi sui trattati esteri. E nazionali, sì. Qualunque. E quindi forse dovremmo ripensare un pochetti. Certo, io non dico che, attenzione, che i nazisti e gli americani e gli statunitensi sono la stessa cosa. Però sicuramente facciamo parte di un'alleanza e quelli che hanno una certa età, qui siamo tutti così, si ricorderanno ad esempio negli anni 70, quando il Partito Comunista era lì per superare la democrazia cristiana e quindi in un certo senso magari... Il più grande Partito Comunista d'Occidente. Esatto. E che Kissinger disse chiaramente, dice, l'Italia non si sogni di essere libera e di poter fare i governi che vuole. Noi siamo stati tranquilli perché i comunisti non sono mai arrivati al governo, ma se lo fossero stati probabilmente avrebbero fatto la fine di quello che è successo in Iran, quando fu buttato giù lo Shah, in Guatemala, in Cile e così via. Apparteniamo a un'alleanza, lo facciamo volenti o nolenti, però proprio liberi. Io direi che non lo siamo, per questo che dicevo forse la liberazione è una bella illusione. È un po' come quando a Gandhi chiesero che cosa pensa lei della civiltà occidentale e lui rispose che sarebbe una bella idea. E anche noi cosa pensano della liberazione? Sarebbe una bella idea se fossimo liberi, ma non lo siamo. Sentiamo Carlo Panella a proposito. Sentiamo che non possiamo fare il referendum neanche sul concordato. Certo, quello è un trattato con lo Stato internazionale. Certo. Quello sarebbe interessante. Quella è una cosa del fascismo che non è caduta tra l'altro, perché il concordato fu messo esattamente come era dentro la Costituzione, fu poi riveduto da Craxi negli anni Ottanta. Però ci sono tante cose che dovremmo ripensare e le ritualità ci impediscono forse di farlo, perché si celebrano in maniera più convenzionale. Carlo Panella, che dobbiamo ripensare dal tuo punto di vista? Ma non è facile fare chiarezza. Ad esempio è vero che noi siamo stati occupati politicamente diciamo dagli americani, ma per fortuna che siamo stati occupati dagli americani, perché se no l'Unione Sovietica avrebbe invaso ben prima del 2022 la Russia, l'Europa, così come ha fatto con i paesi dell'Est. C'è molta difficoltà da avere chiarezza su 25 periodi. Ad esempio io vedo queste immagini. Questi ragazzi, questi signori che manifestano a favore della Palestina, forse non lo sanno, ma la leadership palestinese tra il 40 e il 45 si è spostata tutta a Berlino. Erano tutti filonazisti, il gran mufti, il capo dei palestinesi, che fu anche il capo dei palestinesi nella guerra del 48 contro Israele. Incontrava Hitler, diceva che era d'accordo con la soluzione dei nazisti, del problema ebraico. Dall'altra parte a Milano ci sono i fischi alla brigata ebraica ogni anno, ben prima della guerra di Gaza. Ora, non si sa, ma la brigata ebraica era composta da 5.000 ebrei. Dove c'erano persone di molte nazionalità, italiani. La verità è vera, c'è un equivoco ad esempio. Si pensa che Israele sia nato come risarcimento della Shoah. Non è vero. Israele è nato perché tra il 40 e il 45 50.000 israeliani ebrei di Israele si sono presentati. I volontari hanno combattuto dentro l'esercito inglese. Poi alla fine hanno fatto anche la brigata ebraica. Ma il contributo di Israele alla liberazione dell'Europa era il 9% della popolazione che si è messa a combattere contro i nazisti. Invece i palestinesi combattevano a fianco dei nazisti. La dirigenza palestinese combatteva a fianco dei nazisti. Così come in Italia c'è stata molta confusione perché c'è stato un tentativo di egemonia, soprattutto negli anni 60-70, da parte del Partito Comunista sulla resistenza. Io mi ricordo quando Claudio Pavone, partigiano, quindi assolutamente figura irreprensibile, scrisse che la resistenza era stata anche una guerra civile. ma si scatenò un inferno. L'Ampi, fino a poco tempo fa, sosteneva che la resistenza era stata solo una guerra contro l'invasore. È vero, la resistenza è stata una guerra contro l'invasore. La resistenza, come dice Claudio Pavone, è stata anche lotta di classe. Ma per arrivare all'oggi e alle difficoltà dell'oggi sull'antifascismo, noi abbiamo avuto un disastro in Italia. Abbiamo combattuto una guerra civile, perché chi combatteva dall'altra parte, dalla parte dei fascisti, ci credeva, ahimè. E non abbiamo ammesso di aver combattuto una guerra civile. Gli americani hanno ammesso di aver combattuto una guerra civile. Il generale dei sudisti riposa accanto al generale dei nordisti. In Italia il fatto di non aver elaborato il fatto che quella vicenda fu anche una guerra civile, che le idee sbagliate, assolutamente da combattere, dei perdenti, erano comunque delle idee, erano degli ideali, ha creato un problema di immaturità politica generale. Grazie. Allora, devono andare in pubblicità. Adesso sentiamo sia Camilla Conti sia Anna Maria Catano. Ripartiamo facendovi sentire, prima lo citavo a proposito anche del centro-destra, della destra al governo. Insomma, molte polemiche in questi giorni, soprattutto perché alcuni esponenti, Giorgia Meloni diciamo in primis, no? Secondo i detrattori, non riescono a dirsi antifascisti. Vi facciamo sentire due opinioni dopo la pubblicità. Io ho due nonni che erano fascisti e uno è stato fucilato dai partigiani. Però con tutto il dolore che la mia famiglia ha provato per questo, forse perché faccio lo storico e so che la memoria non basta, perché ognuno ha la sua e invece bisogna andare un po' più in là e arrivare alla storia che vuol dire io capisco il tuo punto di vista, però anche tu non puoi restare dentro chiuso, chiuso dentro a questa cosa. Ma in ogni guerra ovviamente c'è chi vince e c'è chi è sconfitto e ci sono guerre in cui non è così evidente appunto chi sta dalla parte giusta e chi sta dalla parte sbagliata. La tragedia dell'Italia, secondo me, una delle tragedie dell'Italia è proprio che questa difficoltà di dire, di andare al di là della propria memoria. Che ci sia un pezzo significativo di questo governo che non riconosce il 25 aprile, c'è chi dice che l'antifascismo è stato frutto di uccisioni e di violenze, immaginando che il 25 aprile è relegato agli anni 70. L'antifascismo è molto più lontano, ha le radici molto più antiche. C'è un pezzo d'Italia dove ormai da tre generazioni ai bambini si insegna che il regime ha fatto anche cose buone e che invece i partigiani erano degli scavezzacoli o peggio, dei ladri di galline o magari dei criminali e che quindi non c'è nessun motivo di festeggiare il 25 aprile. Una parte d'Italia è rimasta così. Se noi oggi stiamo ancora qui in un paese che continua a spaccarsi fra chi sta con i partigiani e chi sta con i fascisti, allora vuol dire che queste non sono cose superficiali, sono cose radicate profondamente nell'identità italiana e quindi che chi sta al governo e dovrebbe aver giurato su una costituzione antifascista invece faccia così fatica a dirsi antifascista, il che vuol dire che sei fascista fondamentalmente, mi sembra, perché o l'uno o l'altro, questo a me sembra una cosa inquietante. Bisognerebbe che qualcuno rispondesse, anzi spiegasse, spiegasse agli italiani il significato di quella fiamma che c'è dentro un simbolo di partita. Lei non deve rispondere a nessuna domanda, io non faccio nessuna domanda. Bisognerebbe che per onestà intellettuale si spiegasse agli italiani che cosa significa quella roba lì. Allora Camilla Conti, vado a Camilla Conti così affrontiamo diciamo, intanto voglio sentire la tua riflessione e poi affrontiamo questa parte appunto fortemente legata al fatto che in Italia c'è un governo di destra, di centro-destra, di destra-centro come vogliamo dire. Che ti devo dire? Io non ce la faccio più, posso lamentarmi guarda perché sento questi discorsi e li leggo facendo la rassegna tutte le mattine da giorni. Innanzitutto mi trovo totalmente d'accordo con quello che diceva Panella, è molto più bravo di me, io sono nata nel 73 e non sono una storica per cui lascio fare il mestiere a chi lo sa fare e chi lo sa raccontare molto meglio di me, ma ha toccato dei punti fondamentali. Ne approfitto visto che mi dà la parola per rispondere a Di Freddi. Grazie a Dio e questo è un'opinione mia personale, però non saremmo qua a confrontarci liberamente, a parlare, ad esprimere ciascuno la propria opinione, grazie a Dio ci sono stati gli alleati inglesi e gli alleati americani, perché non so che cosa sarebbe successo, non lo voglio neanche immaginare. Detto questo, sul tema della Meloni, sentivo le dichiarazioni dell'Ampi eccetera, l'ha detto più volte, anche l'anno scorso ha contestato il fascismo, addirittura nel 2006 mi sono andata a ritrovare l'altro giorno un'intervista fatta a Sabelli Fioretti ed era stata molto netta, ti vada a riprendere dei passaggi, Di Mussolini aveva detto che il suo era un sistema autoritario, storicamente anche prodotto tanto, ma questo non lo salva, ci sono principi che valgono di più, la libertà e i diritti civili eccetera eccetera, non ti sto a riprendere tutte le dichiarazioni di Meloni. Il punto secondo me sul fronte Meloni è uno, che Meloni deve dire che è antifascista come vogliono quelli che le dicono devi dire che sei antifascista e secondo me, anche se lo dicesse, qualcuno direbbe no, ma lo dici, non basta perché non lo è veramente, si viene al tema della fiamma che come diceva Giordano Bruno Guerra in un'intervista molto bella che ha fatto qualche giorno fa a Repubblica, lo può confermare se è lì, il tema del simbolo della fiamma, poi vorrei ricordare anche il tema della falce e martello nei simboli di altri partiti, nei partiti di sinistra, giustamente Giordano Bruno Guerra dice ci vuole un po' di tempo, Fini non è che ha cambiato, ha cambiato dopo anni che era al potere, per cui ci vuole tempo, questo non vuol dire che Meloni sia una fascista e chiudo, mi sembra che non si veda l'elefante nella stanza, forza di parlare di fascismo, i partigiani eccetera, l'elefante nella stanza l'avete fatto vedere all'inizio della trasmissione, con gli scontri stamattina, e io spero che non ce ne siano altri, fra la brigata ebraica e i tropal, quello è l'elefante nella stanza, non c'è solo il fascismo, c'era anche il nazismo, era il nazifascismo e quei rigurgiti lì, mi preoccupano molto di più di un fascismo che onestamente al governo io continuo a non vederlo, magari mi sbaglio, io sono un ingenuo, sicuramente, però... Allora, intanto è appena arrivata la notizia che è stata sfregiata una lapide a Roma con la scritta partigiano, stupratore, assassino, perché poi... E questo è sbagliato. Sì, no, ma voglio dire, è chiaro che le celebrazioni del 25 aprile si incrociano con appunto corte e manifestazioni pro-Palestina, come tu pure ricordavi, perché insomma viviamo un momento di, non solo molto complesso, ma di grandissime tensioni. Allora, vado da, intanto, Anna Maria Catano, che ha da poco pubblicato per le edizioni San Paolo il partigiano tradito, che diciamo è una storia nella grande storia, di chi? È una piccola storia nella grande storia, che però torna a questo tema della memoria, perché io sono molto d'accordo con quello che diceva la collega, cioè noi non vediamo l'elefante nella stanza, cioè viviamo da 80 anni in democrazia, abbiamo avuto il privilegio di vivere in una... di poter dire di tutto e di più. Io veramente sono spaventata quando vedo questi ragazzi, la polizia per le strade, la violenza e tutto questo mondo che veramente non rende memoria e onore a tutti quelli che sono morti, tra cui anche Franco, di cui io racconto la storia, per garantire a noi il privilegio di essere liberi, di poter parlare liberamente e di dire tutto e il contrario di tutto. È molto banale, molto semplice però. È una realtà che oggi veramente, al di là di tutti i filosofemi, tutte le polemiche, viene sempre misconosciuta. Franco Passarella era un adolescente, poco più che un adolescente, un ragazzo di 18 anni, che matura in un tempo terribile, quello del 43-44, la scelta coraggiosa di partire partigiano. In nome anche di una fede cristiana che era molto forte, ma veniva da una famiglia di antifascisti, Franco è mio zio, questo lo dico subito, la famiglia di antifascisti, il Comitato di Liberazione Nazionale Bresciano è stato fondato a casa dei miei nonni, entrambi i miei nonni sono stati incarcerati, la sorellina, 16 anni, è stata staffetta partigiana, più riprimata, insomma una famiglia decisamente di antifascisti. Questo ragazzo parte per la montagna e se ne perde traccia. Se ne perde traccia dal giugno del 44, parte il 19 giugno del 44, in realtà viene ammazzato una settimana dopo, il 25 giugno del 44, il suo corpo, il suo cranio mangiato e le ossa mangiucchiate dagli animali vengono ritrovate nel dicembre del 46. Si celebra da grandi funerali partigiani a Brescia, era l'ultimo dei tanti ribelli per amore dell'Oratorio della Pace di Brescia, uno dei centri dell'antifascismo a Bresciano, e dopodiché tutto tace, il dolore in famiglia è fortissimo. Io, è una storia mia familiare, ma io di questa storia qui non sapevo assolutamente nulla. Sapevo di aver avuto un nuovo zio partigiano, per cui sì, tutti si commuovevano, ma nessuno aveva mai neanche della nuova generazione, della mia generazione, avuto il coraggio di chiedere che cosa fosse davvero successo. Sapevamo solo che era morto partigiano. Poi dieci anni fa la storia è tornata alla luce, è stata ricostruita, è stata ricostruita, devo dire, da Mimmo Franzinelli, che il nome ha acclarato e quindi non c'è bisogno di presentarlo. E io ci sono stata trascinata un po' dentro, ci sono piovuta dentro, anche perché ero l'unica che poteva alla fine scrivere. Tra tante polemiche, tante versioni, tanta omertà per 70 anni, tante versioni tarocche, fasulle, inventate, un po' da tutte le parti, un certo momento bisognava mettere il punto fermo. Non so se devo raccontare già il finale o no, però, vabbè, in realtà Franco fu massacrato da una banda di delinquenti che però in quel momento avevano addosso il fazzoletto verde. Io ci tengo a dire che nel 44 i partigiani si autodefinivano tali perché è una struttura, un'autorità partigiana. Parlo della Valcamonica e quindi della Lombardia di quella zona e si strutturano nel novembre del 44. Quindi in realtà questi erano dei teppisti locali che per controllare meglio il territorio, la cosiddetta banda di solato che ha comunque commesso altri omicidi, altre violenze in quella zona. Questo è testimoniato in vario modo e questo è un libro scritto in chiave narrativa, quindi è un romanzo, ma è una storia rigorosamente vera che io ho ricostruito da giornalista, quindi attraverso documenti e testimonianze. Non c'è una sola parola di fantasia. Giordano Polo Guerri, prima lo si richiamava, credo l'avesse fatto Camilla Conti citando queste interviste, Isabelli Fioretti a Giorgia Meloni, il fascismo buono? Ma non esiste un fascismo buono, non può esistere, perché il fascismo era anzitutto privazione della libertà, privazione della libertà individuale e privazione della libertà collettiva. Poi, bisogna dirlo, ha fatto anche delle cose buone, adesso non mi si prenderà in giro a vita, finisco su un blog con solo questa frase, però il fascismo ha fatto dei lavori pubblici straordinari, ha scolarizzato l'Italia, ha aperto per la prima volta la vita pubblica alle donne, insomma, vent'anni di fascismo, era difficile non fare qualcosa di buono. E questo è innegabile, ed è questo che viene negato, appunto non si può dire che ha fatto cose buone, le ha fatte. Io sono stato alla celebrazione dei 90 anni di Sabaudia, recentemente, e c'erano le paludi, oh, lì si moriva di malaria a 50 chilometri da Roma. E c'è stata questa grande opera di bonifica, sì. Quindi, questo non toglie che il fascismo va combattuto, andava combattuto, io credo che sarei salito sui monti, credo, spero a combatterlo, ma pretendere che veramente si dica che era il male assoluto, mi sembra che ce ne corra. Il male assoluto era anche il comunismo, e lo è ancora. Volevo aggiungere qualcosa, professor Di Freddi, ho visto su questa questione. No, no, io ho sentito, sono molto d'accordo con lui, a me quello che interessa oggi non è quello che è successo cent'anni fa, è quello che succede oggi ancora. E così come si può dire che il fascismo ha fatto anche cose buone, bisogna anche avere il coraggio di dire, mentre invece mi sembra che abbiamo un po' una visione idilliaca di cosa sono gli Stati Uniti, che gli Stati Uniti hanno fatto anche tante cose cattive. Faccio degli esempi, perché a volte, nemmeno io le sapevo, fin quando non sono andato a scavare. Per esempio le leggi razziali che Hitler ha introdotto nel 1933, noi abbiamo copiato nel 1938, le leggi razziali erano in vigore negli Stati Uniti, nella maggioranza degli Stati dell'Unione per la prima parte del Novecento, sono state fatte da un americano che si chiamava Loffling, che poi prese la laurea d'onore ma Heidelberg quando arrivò il nazismo, e sono continuate tra l'altro anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Noi non sappiamo che in America sono stati castrati per decreto giudiziale 50.000 omosessuali dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo sono anche gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti per esempio... Anche in Svezia. Questo non è che ci conforta. Gli Stati Uniti ad esempio, noi siamo alleati e pensiamo che siano il bene che ci difende dal male, ma c'è un rapporto del congresso americano di due o tre anni fa che è agghiacciante, perché ha fatto un elenco fatto dal congresso americano. Un elenco degli interventi militari che sono stati fatti dagli Stati Uniti dagli inizi della Repubblica, 1776 fino a 8. Sono circa 500 quelli che loro hanno elencato, di cui 250 sono stati fatti dopo la caduta dell'Unione Sovietica, negli ultimi 30 anni. Cioè non c'è un anno dall'80 fino a oggi in cui gli Stati Uniti non abbiano fatto interventi militari all'estero. E l'80 è soltanto perché era la presidenza Carter che per quattro anni mise una moratoria sugli interventi, perché altrimenti si risalirebbe fino al 1945. Oggi gli Stati Uniti hanno nel mondo 800 basi, la Russia, la Francia e l'Inghilterra insieme ne hanno 30. Cioè gli Stati Uniti sono l'elefante che noi non guardiamo e crediamo che siano i difensori della libertà, ma sono un impero e noi facciamo parte dell'impero. Allora, vado in pubblicità, poi vi porto anche negli Stati Uniti perché vi facciamo vedere questa protesta che dilaga nei campus americani pro-palestinese e anche insomma c'è fibrillazione, mettiamola così, negli Atenei italiani. Lo vediamo dopo la pubblicità. Era dal tempo delle proteste contro la guerra in Vietnam 1968 che non si vedeva la polizia intervenire all'interno di un'università americana. È accaduto la scorsa settimana alla New York University e alla Columbia tra le più prestigiose degli Stati Uniti, le forze dell'ordine chiamate dalla rettrice Nema Kishafik hanno arrestato un centinaio di studenti ma questo non è servito ad arginare le manifestazioni che anzi si estendono ad altri campus come Yale, Berkeley o il prestigioso MIT di Boston mentre centinaia di docenti della Columbia hanno manifestato contro l'arresto dei loro allievi. La protesta va avanti da sei mesi accanto alle tende ci sono gli striscioni a favore della Palestina contro il sostegno americano a Israele ma l'accusa che viene mossa agli studenti è di essere antisemiti. Robert Kraft grande finanziatore della Columbia ha annunciato la sospensione delle donazioni perché il rettorato non garantisce la sicurezza degli studenti ebrei. Condanno le proteste antisemiti ha dichiarato il presidente Biden condanno anche quelli che non capiscono cosa sta succedendo ai palestinesi. L'antisemitismo non va mai bene dice questa studentessa di legge e non è assolutamente quello che noi sosteniamo ed è per questo che ci sono tanti compagni ebrei che sono qui con noi oggi. Se in America si procede con gli arresti in Italia in questi mesi non sono mancati gli scontri. La battaglia nel nostro paese è soprattutto per chiedere al Ministero degli Esteri di bloccare la collaborazione scientifica industriale e tecnologica con gli istituti scientifici israeliani. Quando martedì a Torino i manifestanti hanno cercato di entrare al castello del Valentino sede del Politecnico dove c'erano diversi rappresentanti del governo è intervenuta la polizia. I nostri carabinieri la nostra polizia sta tentando di garantire i principi costituzionali della libertà di manifestare secondo la legge questo è il principio. Invece ci sono le assemblee quelle elettive rappresentative quelle a cui sempre le squadracce di qui sopra hanno tentato di impedire di discutere. Nessun dialogo con i violenti ha postato la ministra dell'Università Bernini effettivamente non sembra esserci stato un gran dialogo. Allora l'ultimo aggiornamento che riguarda le proteste negli Stati Uniti la polizia californiana ha arrestato ieri sera 93 persone nel campus della Università di Los Angeles per violazione di proprietà privata durante appunto le proteste contro quello che sta succedendo a Gaza. Allora Carlo Panella io ti vorrei chiedere un paio di cose intanto voglio fare vedere di Carlo Panella per l'Indau edizioni il libro nero di Hamas l'antisemitismo islamico e il miraggio dei due Stati. Allora da una parte ti vorrei chiedere alcune cose che riguardano ovviamente la situazione adesso di questa terribile crisi in Medio Oriente dall'altra perché poi mi collegherò con quanto ha scritto nel suo libro invece per Giorgio di Freddi a quello che sta succedendo nelle università. Partiamo dalle università perché in queste università più di qualcuno ha scritto in questi giorni sta succedendo quello che successe durante il Vietnam e intanto questo fa ridere intanto voglio sapere una cosa su questo ma poi aspetta aggiungo un'altra cosa così mi dai una risposta complessiva ieri mi pare Rampini su Repubblica ha detto un'altra cosa ha detto che in America in questo momento sta succedendo un po' quello che successe nel 68 in Italia quando Pasolini non si schierò a fianco dei poliziotti figli di proletari contro gli studenti figli della borghesia e dice succede quello perché protestano studenti di Atenei per esempio americani dove la retta costa l'ira di Dio ma guarda no non è comparabile l'entità del movimento contro la guerra di Vietnam che era planetario addirittura che era mondiale io manifestavo contro la guerra di Vietnam in quegli anni insieme a migliaia di altre decine migliaia centinaia di migliaia il movimento delle università americane ma anche delle università italiane lo spiego in un capitolo di questo mio libro nero deriva dal fatto che l'antisemitismo non è soltanto un patrimonio della destra dei nazisti eccetera è un patrimonio anche della sinistra della sinistra staliniana c'è una forte componente della sinistra di derivazione staliniana e comunista che ha vissuto l'antisemitismo in una maniera feroce certo non ha compiuto la Shoah ma strage Rappoport spiega molto bene che il complotto dei medici ebrei denunciato da Stalin nel 1953 era l'anticamera di una persecuzione di uccisione di ebrei che non ci fu soltanto perché per fortuna Stalin finalmente morì c'è nella sinistra una incapacità di leggere l'antisemitismo ma pensate non soltanto per i sovietici ma anche per i comunisti per lunghi anni la Shoah è stata derubricata a un episodio della lotta di classe lo spiegava sempre molto bene Giorgio Israel questo c'è un'incapacità c'è una tradizione di antisemitismo nel senso di anticapitalismo ma perfino in Marx c'è questo perfino in Marx ci sono degli elementi di contrasto nei confronti degli ebrei oggi fa particolarmente rabbia a me vedere i partigiani antisionisti con le bandiere che allora stavano con Hitler quelle bandiere lì che vedete adesso in televisione nel 40-45 erano dalla parte di Hitler e dei nazisti il gran mufti di Gerusalemme con quelle bandiere ha organizzato le SS bosniache che cos'è il fascismo oggi? secondo me il fascismo oggi è il pogrom del 7 ottobre di Hamas ai confini di Israele dentro Israele di cui questi ragazzi questi signori non parlano perché è troppo scomodo e vi ricordo una cosa di cui parlo diffusamente nel mio libro quel pogrom è stato l'episodio più grande di uccisione e di stupro dalla Shoah dici dopo la Shoah è stata l'uccisione più grande della Shoah 1200 ebrei uccisi ma anche l'episodio più raccapricciante di violenza e di stupri sulle donne centinaia di donne ebree di ragazze ebree sono state stuprate e ci sono testimonianze ce n'è stata una che è una degli ostaggi liberati che questi stupri continuano perché non parlano degli ostaggi di Gaza se gli ostaggi di Gaza fossero liberati la guerra di Gaza finirebbe immediatamente volete chiudere la guerra di Gaza avete ragione troppi morti troppi palestinesi morti allora che Hamas liberi i 40 ostaggi tra gli ostaggi di Gaza c'è un bambino che quando è stato rapito aveva 9 mesi suo cugino 11 mesi i nazisti uccidevano i neonati Hamas ha ucciso i neonati il 7 ottobre ma i nazisti non hanno avuto il coraggio di prendere ostaggio i neonati questo è il fascismo oggi così come il fascismo oggi elementi di fascismo oggi ci sono nella guerra che Putin sta conducendo contro l'Ucraina il furto dei bambini 40.000 bambini ucraini sono stati rapiti e portati portati in Russia per indottrinarli per fare pulizia etnica questi sono gli elementi di fascismo oggi reali allora Odifreddi facciamo vedere anche il libro di Odifreddi per Raffaello Cortina c'è del marcio in occidente io riprendendo anche un po' le manifestazioni nelle università questi ragazzi appunto schierati una parte ovviamente non tutti perché bisogna essere anche molto come dire non generalizzare no però schierati con i palestinesi ragazzi appunto nati cresciuti in occidente e che a sentire Carlo Panella parlano di cose che conoscono poco ma credo che lo facciamo tutti di parlare di cose che conosciamo poco per esempio il termine antisionismo antisemitismo perdon che è stato usato anche questa mattina quello è un termine da una parte molto frainteso e dall'altra parte molto abusato tra l'altro è fatto coscientemente l'accusa di antisemitismo dagli anni settanta fu Abba Eban che era uno dei padri fondatori di Israele che fu l'ambasciatore alle Nazioni Unite poi divenne ministro degli esteri fu lui che agli inizi degli anni settanta diede ordine proprio ai diplomatici israeliani di dire ogni volta che lo Stato israeliano fa delle politiche che vengono criticate bisogna attaccare e dire che questo è antisemitismo cioè lo si fa coscientemente e questo ormai è diventato una prassi comune i nostri presidenti della Repubblica per esempio Napolitano Mattarella Biden l'abbiamo sentito ormai criticare lo Stato di Israele significa essere antisemiti e questo naturalmente è usare eliminare lo Stato di Israele posso intervenire adesso la cosa è complessa tra l'altro invece in realtà si devono distinguere tre cose che sono completamente diverse fra loro l'anti-giudaismo uno può essere contrario alla religione ebraica o quella cristiana o quelle altre quella è una questione di religione c'è l'anti-sionismo naturalmente in tante versioni che può essere l'avversione allo Stato di Israele oppure l'avversione alle politiche dello Stato di Israele e c'è l'antisemitismo che però per fortuna è una cosa molto più ristretta ed è ovviamente l'avversione verso i popoli di razza o di etnia semita però attenzione perché è antisemitismo anche quello degli israeliani nei confronti dei palestinesi i palestinesi sono semiti e usare antisemitismo soltanto per identificare l'espressione dell'odio verso gli israeliani è imperialismo in un certo senso ce la Shoah di mezzo ce la Shoah posso stopparmi non complicare arrivo arrivo sì allora siccome è una bella confronto però volevo solo finire sugli studenti adesso adesso torno devo dare un piccolo odio nei tempi perché sono anch'io appassionato a questa discussione come chi ci segue allora subito vado da visto che è il ponte del 25 aprile da Paolo sotto corona poi riprendiamo con tutti la discussione allora buongiorno Paolo sì grazie eccoci facciamo il punto della situazione il tempo forse complessivamente è migliore che nei giorni scorsi però come vedete il verde almeno il verde delle piogge deboli è steso un po' ovunque con rare zone in cui vedete il bianco che sarebbero delle schiarite quindi niente piogge anche poche nuvole c'è qualche zona le coste del Veneto un piccola zona sull'Alto Lazio poi fra Campania e Calabria in cui forse c'è qualche pioggia un pochino più consistente che dire speriamo nelle schiarite perché il tempo sicuramente non è rimesso domani la giornata si presenta simile l'unica zona con qualche fenomeno un po' più consistente l'Alto Piemonte se no il verde di queste piogge deboli ma sempre come dire deboli ma ci sono quindi fastidioso se volete ancora c'è forse mancano all'estremo sud peninsulare e in Sicilia e poi vediamo anche la giornata di sabato segni di miglioramento in parte al centro e al sud c'è qualche schiarita in più però c'è un peggioramento sulle zone di nord ovest anche abbastanza marcato segnatamente Liguria di Ponente Piemonte Valle d'Aosta e lì c'è proprio di nuovo maltempo però nonostante il tempo appunto non si sistemi vi faccio vedere un dato di speranza la tendenza delle temperature massime fra oggi e domani al nord leggerissimi aumenti lo stesso vale per il centro però al sud già cominciano a risalire e la tendenza delle temperature da qui alla fine della settimana sarà effettivamente di recupero quindi risalgono forse non tornano normali ma sicuramente qualche grade in più almeno quello nei prossimi giorni ce l'avremo grazie grazie Paolo parole confortanti per chi appunto non vede l'ora che arrivino le temperature tardo primaverili e quasi estive andiamo subito in pubblicità e riprendiamo tra poco la nostra discussione allora riprendiamo un po' il tema università occidente non so c'era Anna Maria Catano credo che volesse intervenire io volevo ricordare a tutti che ci sono 45 minuti di video che sono stati mostrati alla stampa internazionale che raccontano gli orrori di quello che è successo il 7 ottobre di cui si parla veramente troppo poco bambini squartati donne stuprate c'è stato un ragazzo decapitato addirittura hanno chiesto un riscatto per restituire la testa al padre per essere seppellita cioè delle cose è stata una mattanza di proporzioni inenarrabili e questi ragazzi che protestano ma queste cose le sanno e qual è la spiegazione che ti dai? eh la spiegazione è è è veramente erano ebrei erano ebrei è pazzesco è pazzesco e lo vedo anche Camilla Conti che annuisce sentiamola un attimo e poi vado dal Giordano Buonaguerri Camilla no ecco andrebbe quei video allora premessa non l'ho visto ma io ne ho visto una buona parte anche io conosco bene una persona che l'ha visto mio marito un collega l'ha visto e per sconvolgere mio marito ce ne vuole ed è stato terrificante esatto io lo farei a vedere a tutti a tutti quel video lì nelle scuole si fanno vedere tante cose nelle scuole chiaramente non ai bambini degli elementari perché è pesantissimo e beh è certo ai ragazzi delle università ma anche a qualcuno di quarto o quinta liceo e farebbe bene a tanti e quindi sono totalmente d'accordo e sono d'accordo del fatto che fossero ebrei ma più che altro è il tema dell'ignoranza e torno un po' su quello che è stato detto mentre parlavate voi in studio il tema dell'ignoranza secondo me è fondamentale questo vale sia in America che in Italia e trovo in America rispondendo anche a Odi Fred in America di difetti degli americani ce ne sono tantissimi anche per esempio tutta quella cultura woke che partendo da una profonda ignoranza ha preso delle derive allucinanti e l'ignoranza di molti di questi ragazzi ci sono altri video che sono circolate in questi giorni sulle proteste all'università americane di cordoni di ragazzi di studenti americani che proibivano l'ingresso a studenti e quindi a loro colleghi ebrei all'interno dell'università che è una roba aberrante quando molti non tutti chiaramente perché alcuni sanno conoscono hanno studiato molti quando li vai a intervistare o gli fai delle domande non sanno assolutamente niente tema drammatico anche qua in Italia questo non è per ridurre la questione assono degli ignoranti secondo me è un problema bisogna anche capire perché succede questo bisogna capire per esempio non lo dico io ma lo dice il rettore dell'università Federico II di Napoli se non sbaglio è un'università di Napoli sì Federico II è un'università di Napoli qualche settimana fa ha fatto un'intervista dicendo che nel caso delle proteste dell'università italiane c'è una maggioranza perché poi chi protesta chi fa lo sciopero della fame con la staffetta perché poi bisogna essere anche credibili quando si manifesta quelli che non protestano vorrebbero a un certo punto e che stanno siti perché non parlano non gli viene dato il microfono perché lì la censura non c'è questi ragazzi stanno parlando si vedono i video dappertutto quindi c'è ampia eco a quello che stanno facendo a chi sta protestando le università italiane c'è un'ampissima maggioranza che vorrebbe parlare discutere con un confronto serio non a colpi di slogan vedevo anche il servizio e chiudo che avete mandato e si conclude ma io ho scosso la testa non so se si è visto perché ecco il dialogo come viene trovato c'era le immagini dei poliziotti che alzavano in manganello in quella protesta lì a Torino scatenata dal centro sociale a scattasuna dove dentro ci sono anche degli infiltrati insomma non hanno questa grande passione non è che l'interesse sia principale credo rivendicare quello che sta succedendo in Palestina ma ci siano altri obiettivi in quella protesta lì sono finiti sette poliziotti contusi sì sì non c'è dubbio non è che nel senso bisogna sempre la violenza va condannata da tutte le parti e il diritto di parola di cui si parlava prima vale per tutti vale il confronto bisogna parlare non dire io non voglio ascoltare la rettrice della sapienza perché vuole fare gli accordi con le università israeliane che non sono fra l'altro accordi sulle armi ma sono anche su temi che stanno a cuore a questi ragazzi sull'emergenza climatica su tante altre questioni è il confronto che manca allora purtroppo è questo il grave problema secondo me vorrei sentire mi permette un'ultima battuta io non sono una politologa però perché Hamas non libera gli ostaggi se liberassero gli ostaggi tutto il mondo compresi gli israeliani imporrebbero a Netanyahu la pace perché sono fascisti compresi gli israeliani imporrebbero a Netanyahu la pace posso però fare una piccola premessa torno da Giordano Bruno Guerri intanto poco fa sui social network Giorgia Meloni ha scritto continueremo a lavorare per difendere la democrazia e per un'Italia finalmente capace di unirsi sul valore della libertà viva la libertà in occasione ovviamente il 25 aprile no però volevo dire una cosa io voglio ricordare una cosa perché poi anch'io ho i miei flash di memoria a proposito delle proteste di questi ragazzi in Russia si è votato recentemente i quattro esponenti dei partiti diciamo li vogliamo definire di opposizione contro il partito di Putin il giorno dopo erano seduti in questo grande tavolo davanti a Putin a parlare come vecchi amici cioè non c'è la libertà in Russia in Iran di cui si parla hanno inasprito ancora di più tutte le regole che riguardano il velo e c'è una teocrazia io vorrei ricordare sommessamente che qui facciamo tutte le polemiche che vogliamo ma abbiamo la libertà di farle perdonatemi se lo dico infatti è giusto l'appello della Meloni parliamo di libertà però ti volevo dire una cosa c'è del marzo in occidente riprendendo il titolo del libro di Fredi ci sarà pure però voglio sentire cosa pensi c'è del marzo ovunque a proposito degli studenti che protestano contro Israele fermiamo la guerra fanno un semplice calcolo aritmetico cioè il 7 ottobre ha provocato 1300 morti adesso voi ne avrete provocati già 34 mila esagerati basta eccetera ma bisogna vedere chi è l'aggressore è l'aggressore che va fermato perché non aggredisca ancora un esempio storico molto semplice quando Hitler invase la Polonia nel 39 provocò qualche migliaio di morti se lo si fosse lasciato farli dice vabbè hai preso la Polonia stiamo così tranquilli è finita così cosa avremmo oggi avrebbe aggredito un altro paese eccetera eccetera invece gli hanno dichiarato guerra Francia Gran Bretagna poi Stati Uniti la seconda guerra mondiale ha provocato decine decine di milioni di morti c'è stato Hiroshima c'è stato Nagasaki c'è stato Tuntura che sappiamo e però viviamo in un mondo più libero di quello che il mio amico di Fredi crede per fortuna ma va fatta anche chiarenza sui vostri in Palestina voi avete visto tutti le immagini di Gaza tre quarti del territorio di Gaza sono dei campi soltanto un quarto è occupato dalle case perché Hamas che ci mette dentro gli ostaggi i bambini di nove mesi perché Hamas ha costruito i suoi tunnel non sotto i campi ma sotto le case sotto gli ospedali perché Hamas tiene come scudi umani questo milione due milioni di palestinesi io nei confronti della popolazione di Gaza che ricordo sempre ha votato Hamas non si è mai ribellata ad Hamas la popolazione iraniana si è ribellata alla sua Hamas al governo teocratico di Gaza la popolazione di Gaza non si è mai ribellata ad Hamas perché non non accade che qualcuno si ribelli io ho la stessa pietà che molti si pongono io ho la stessa pietà nei confronti della popolazione di Gaza che ho avuto e ho nei confronti dei tedeschi di Dresda che nel 45 erano bombardati dagli alleati perché nessuno dice che Churchill e Roosevelt hanno commesso genocidio distruggendo la Germania e ammazzando centinaia di milioni di migliaia di civili perché non era un genocidio perché era il prezzo che il popolo tedesco doveva pagare per aver sbagliato per aver scelto il nazismo il popolo di Gaza ha scelto Hamas e oggi purtroppo e mi dispiace ne pagano il prezzo dei bambini innocenti ma la colpa della morte degli innocenti civili di Gaza esattamente come la colpa della morte degli innocenti cosiddetti civili italiani e tedeschi che avevano applaudito il nazismo è di Hamas non è di Israele ti posso chiedere perché siamo per finire tu credi che sia realizzabile in qualche modo la famosa soluzione due popoli due stati allo stato dell'arte è molto difficile perché bisogna eliminare quella rete terribile di terrorismo che sia in Cisjordania che a Gaza continua a permanere è molto difficile però va detto che il popolo palestinese ha naturalmente assolutamente il diritto di non essere occupato dall'esercito israeliano di avere il proprio stato ma è molto difficile farlo perché? perché c'è Hamas e Hamas non è soltanto un'organizzazione è uno spirito il 73% della popolazione della Cisjordania ha approvato i 1200 morti donne e bambini stuprati il 7 ottobre è l'unica soluzione politica praticabile ma io credo che nel mio libro scrivo il miraggio dei due stati cioè una cosa che si vede che si deve fare ma che è molto difficile fare o di freddi immagino si sia ritrovato nelle parole del Papa meglio una pace negoziata che guerre senza fine no non particolarmente vorrei però rispondere brevemente perché questo fatto di dire addirittura che i bombardamenti di Dresla e di Hamburgo tra l'altro non sono crimini di guerra ma certo lo sono stati sono stati equiparati e allora avremmo ito era ancora un momento sono stati addirittura il processo di Tokyo che è l'analogo del processo di Norimberga che si fece per i crimini compiuti dai giapponesi due dei giurati fecero andare il processo avanti per due anni perché dissero proprio questo dissero è inutile che noi continuiamo a processare i nazisti e gli alleati per le cose che abbiamo fatto anche noi le bombe atomiche i bombardamenti le tempeste di fuoco eccetera sono state equiparate e noi vogliamo semplicemente mettere tutto il male da una parte e tutto il bene dall'altra mentre invece queste cose sono mescolate con il nazismo il motivo per cui c'è Hamas oggi è un motivo molto semplice io nel mio libro ho riportato testimonianze di tante persone contro l'occidente alcune delle quali insospettabili una di queste è di Nelson Mandela ho riportato il discorso che lui fece quando fu arrestato e poi subì una condanna a 27 anni di carcere poi divenne come tutti sappiamo presidente di Sudafrica premio Nobel per la pace eccetera ha pagato direttamente e lui disse io oggi sono giudicato perché sono un terrorista e perché sono diventato un terrorista perché per decenni l'associazione dei neri del Sudafrica ha cercato di fare quello che era possibile prima le manifestazioni pacifiche poi la resistenza non violenta e alla fine l'unica cosa che ha potuto fare è fare violenza Hamas è il risultato finale di decenni di occupazione israeliana la prima intifada noi ce la ricordiamo la prima intifada i bambini israeliani tiravano le pietre ce lo ricordiamo i bambini palestinesi e gli israeliani rompevano le braccia ai bambini la seconda intifada è fatta che la storia sarebbe bello continuare questa è un'altra puntata c'è una storia dietro che per primo aggredirono gli israeliani i futuri israeliani nel 1920 la dichiarazione Balfour concludiamo così è vero che se restituissero gli ostaggi oggi la guerra finirà no non è vero perché l'occupazione è vero l'occupazione è tutta restituite gli ostaggi devo da autorità interrompervi restituite gli ostaggi fatemi salutare ciao David buon 25 apri ciao caro Andrea buon 25 apri grazie a te ai tuoi ospiti seguiremo anche le manifestazioni di Roma e Milano la nostra Ludovica Ciriello si trova a Roma dove poco fa peraltro anch'io ero con la brigata ebraica per ricordare quei partigiani ebrei che hanno contribuito a liberare l'Italia a momenti di tensione con gli antagonisti che hanno contestato questa manifestazione come spesso accade queste sono le immagini Giorgia Meloni intanto con il presidente Mattarella la seconda carica dello Stato Ignazio Larussa e il presidente Fontana erano all'altare della patria Miloni ha parlato attraverso questo post che commenteremo la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia e poi Giorgia Meloni fa riferimento ai regimi totalitari e tutte le dittature che oggi in qualche modo mettono in discussione il principio della libertà ne parleremo con i nostri ospiti sarà con noi Angela Zaro firma dell'Affington Post Roberto Arditti Christian Raimo Roberto Castelli ex ministro della giustizia poi vi porteremo a New York alla Columbia University dove in queste ultime settimane ci sono anche lì manifestazioni molto molto dure addirittura accampamenti di studenti per la prima volta nella storia degli Stati Uniti la polizia è entrata in alcune di queste università sono stati fermati alcuni studenti perché impedivano ad altri studenti ebrei di entrare e di recarsi ai corsi queste sono le immagini che ci arrivano in diretta dalla Columbia University e ci collegheremo da lì per capire che cosa sta accadendo dagli Stati Uniti all'Europa 20 di proteste all'interno delle università apriremo la nostra puntata con Massimiliano Popolizio il grande attore che leggerà un celebre discorso del grande Norberto Bobbio avremo poi Furio Colombo Alan Friedman e tanti altri ospiti Popolizio che ha interpretato appunto Mussolini esattamente allora grazie grazie Andrea grazie David allora grazie a Camilla Conti intanto collegata con noi in questo 25 aprile grazie a Carlo Panella grazie a Anna Maria Catano grazie a Professor Di Freddi grazie a Giordano Bruno Guerri noi siamo qui in perterdi anche domani ci vediamo domani stesso luogo stessa ora c'è l'aria che tira grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.